La prima serie di cui mi sono occupato è stata squadra antimafia, mi sono occupato all'inizio, in realtà avevo già cominciato con una serie che si chiamava Intelligence, ho fatto un po' la revisione finale di questa serie, era una serie di spionaggio con Raul Bova protagonista, da questo sono passato a squadra antimafia, squadra antimafia era una serie di mafia, che ho preso la seconda stagione e che in qualche modo ho cercato di spostare un po' dalla classica post, come possiamo dire, post piovra, quella classica dei poliziotti che seguono il latitante mafioso, per dargli un tono un po' più action, qualcuno dice anche un po' più fumetto, in cui si parlava molto del presente, in cui c'erano dei personaggi un po' diversi dal solito, uno per tutti, non lo so, l'agente segreto di Silva, il nome preso ovviamente da un collega scrittore, che da agente deviato diventa una specie di joker, poi una sorta di supereroe mortale con l'andare alle stagioni e poi, mi piaceva lavorare su una squadra di poliziotti che avesse come capo una donna, che però avesse l'attitudine al comando e non era quella che bisognava salvare perché è legata con le corde sui binari del treno, e devo dire che ha incontrato il favore del pubblico, in questa serie ho lavorato con Walter Lupo, che è un socio di scrittura da tanto tempo, e dalla seconda stagione alla terza, dovevamo chiudere la terza stagione, perché questo era il progetto, ma siamo andati avanti, quarta, quinta, sesta, adesso sto scrivendo l'ottava stagione, quindi direi che sto andando avanti, e qual è stata la mia prima esperienza di lunga serialità? Poi ho fatto una stagione dei RIS, l'ultima, che era la terza stagione di RIS Roma, e ho sempre lavorato quindi per Mediaset, sostanzialmente poi con la produzione Tau 2, e poi mi hanno offerto un progetto RAI, un progetto RAI che per la prima volta affrontava l'idea della guardia di finanza, l'ho trovato interessante.